... Buonasera a tutti qui da Campus Party Italia, la prima edizione in Italia di questa grande Kermessa ormai presente in tutto il mondo. Siamo qui col team XHAC che si è appena giudicato il premio, la CPH aperta da A2A Smart Cities. Siamo qui con Giovanni. Giovanni spiegaci brevemente il vostro progetto e la vostra idea. A noi vogliamo risolvere un problema che tutte le persone che abitano nelle grandi città hanno quando si svegliano e il cielo è nuvoloso. Evitare di trovarci nel traffico, evitare lo stress e soprattutto evitare di cominciare col piede sbagliato la giornata. La nostra soluzione è semplice, senza stravolgere la città applichiamo dei sensori sotto ai tombini e siamo in grado quindi di anticipare le alluvioni, anticipare gli allagamenti, far risparmiare soldi alla municipalità e garantire per Milano entro due anni la totale assenza di allagamenti nelle strade. Quali saranno i prossimi passi del vostro team dopo la vittoria di questo premio? Ovviamente la realizzazione del progetto. Grazie a A2A noi potremmo già cominciare a collaborare con l'azienda per portare a realizzazione il progetto entro la fine del 2019. Grazie mille e in bocca al lupo per il vostro progetto. Crepi.